Il mio nome è Partiban e vivo vicino all'Algudi. Circa sei anni fa ho avuto un incidente che mi ha portato ad amputare la gamba. Per questo motivo non sono in grado né di lavorare né di muovermi. Vi sarei molto grato se mi aiutaste ad avere una gamba artificiale. Grazie. Il nome di mio figlio è Sridara e frequenta la terza elementare. È nato senza una gamba e senza un rene. La sua vita non è facile, a volte molto triste vedendo i suoi amici correre e giocare. Vi chiedo di poterlo aiutare in qualche modo a avere una vita più semplice, più facile. Grazie. Dio vi benedica. Grazie.